Ciao e bentornati a Crushed Romans e alla scuola di uncinetto per mancini e non Nella lezione di oggi andiamo a vedere come si realizza l'avvio a maglie basse senza dover utilizzare le catenelle Questa tecnica può essere utilizzata per chi magari fa un po' fatica a lavorare delle catenelle regolari per l'avvio di un lavoro e quindi si sente più tranquillo con le maglie basse quindi chi magari lavora le catenelle troppo larghe oppure troppo strette Inoltre questo avvio permette di avere la prima riga molto molto elastica che può essere utile soprattutto per i capi d'abbigliamento Iniziamo subito con la lavorazione Facciamo un cappio d'avvio e poi lavoriamo due catenelle Sono le uniche due catenelle che dovremmo fare per questo tipo di avvio Ok, una volta fatto, entriamo nella seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa E abbiamo fatto la nostra prima maglia bassa d'avvio Ora entriamo sotto la maglia bassa In questo caso girate il lavoro e vedete questo filo Noi dobbiamo proprio entrare qui Quindi entriamo in questo filo E prendiamo il filo che viene dal gommitolo Quindi passiamo Ora abbiamo due asole sull'uncinetto Passiamo attraverso una Abbiamo nuovamente due asole sull'uncinetto E passiamo attraverso due Questo è praticamente la chiusura della nostra seconda maglia bassa Quindi se girate il lavoro Qua vedete La parte superiore vedete due V Quindi abbiamo già fatto due maglie basse Adesso facciamo il prossimo punto d'avvio Quindi giriamo di nuovo sulla parte sotto E vediamo che qua si è formato una V Ecco, sono questi due fili Questo e questo Qua abbiamo la nostra V Quindi prendiamo il filo Dopo un paio di punti è più chiaro Ok, quindi abbiamo passato uno Due asole sull'uncinetto Passiamo attraverso una Due asole sull'uncinetto Passiamo attraverso due E abbiamo fatto la terza maglia bassa Una, due e tre Qua abbiamo la vista laterale E qua abbiamo la parte sotto Adesso vedete già più chiaro la prossima V Dobbiamo entrare nella V E tiriamo su il filo Due asole sull'uncinetto Passiamo attraverso una E poi passiamo attraverso due E già abbiamo fatto la quarta maglia bassa Questa è la lavorazione che dobbiamo fare Adesso cerco di spiegarvelo ancora in un modo un po' diverso Quindi, normalmente noi cosa facciamo? Avviamo le nostre catenelle e poi magari lavoriamo le nostre maglie basse Per avviare un lavoro Invece in questo caso facciamo praticamente le catenelle e le maglie basse in un unico colpo Quindi quando io vado qui sotto a lavorare nella V Prendo su il filo Per poter lavorare E poi immaginatevi che dovete lavorare una catenella Quindi la catenella passiamo attraverso l'asola, giusto? E poi dobbiamo fare una maglia bassa Quindi passiamo attraverso due asole Così magari vi viene più facile per ricordarvi come dovete lavorare Quindi qua è la parte sotto Vedo la mia V Quindi come se fosse la catenella Entro Prendo su il filo E poi posso lavorare la prossima catenella Di base praticamente E poi passo attraverso due perché sopra la catenella ci lavoro una maglia bassa E così si forma la nostra riga di fondazione Allora facciamo ancora un po' di punti insieme Quindi giro sulla parte sottostante Qua è il sopra che ho il mio uncinetto Qua è il sotto E mi vado a cercare la V Vedete? Qua abbiamo lavorato la nostra maglia bassa E la V E questa La vedete che è quella che è più ben formata All'inizio magari potreste confondervi E dover voler lavorare qua dentro Quindi cercate quella che è più facile da entrare E meglio rifinita Prendo su il filo Faccio una catenella Faccio una maglia bassa Giro il lavoro Vedete? Non è questa Ma è questa Che è meglio rifinita Prendo su il filo Faccio una catenella Faccio una maglia bassa Vedete? Non è qui Viene anche male lavorare subito qui Qui vedete che sta passando ancora il filo che viene dal gommitolo Non è qui Ma è La V Prima Questa Prendo sul filo Prendo sul filo Passo attraverso una Passo attraverso due Qua abbiamo la nostra V Qua abbiamo la nostra V Entriamo Ma Se riesco Ho lavorato un po' stretto Eccola Tiro su la mia catenella Passo attraverso una Passo attraverso due E vado avanti così Adesso per farvi vedere Ecco qua Ho fatto un errore Si vede Però Nonostante che io abbia lavorato con il cotone Il lavoro è molto elastico Allora qua ho fatto un errore Cerco di riaprire Quindi vediamo Non è questa Sicuramente avrò preso per sbaglio Questa Questa V qua Ma è questa Passo attraverso una Passo attraverso due Mi scuso per l'errore fatto prima Giro il lavoro Cerco la V Bella Prendo sull'asola Passo attraverso una Come se facessi una catenella E passo attraverso due Vado sul retro Non lavoro qui Ma qui Nella V Ben definita Lo vedete poi Quando lavorate Io ho sbagliato Perché è un punto Che utilizzo A dire il vero Pochissime volte Forse l'avrò fatto Due volte Prima di fare il video Prendo la V Tiro su l'asola Passo attraverso due E così Si può andare avanti E vedete E' molto elastico E la rifinizione Del bordo Vi viene perfetto Perché Lavorando un punto Dopo l'altro Non avete il problema Che magari Vi si allarga Il lavoro sotto Oppure che vi stringe Perché avete lavorato Le catenelle Troppo Strette Io spero Che questo tutorial Vi sia stato utile E' sicuramente Un punto Che richiede Un attimo Di allenamento Però Sono sicura Che ci potete Riuscire Ci vediamo Al prossimo lunedì Per la prossima Lezione Della scuola Di uncinetto Nel frattempo Ciao a tutti Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E ci vediamo presto Grazie Ciao